Per la prima volta in Sicilia, nella sanità pubblica, si potranno curare le dipendenze attraverso la stimolazione magnetica transcranica. L'ASPE di Ragusa, prima nel sud Italia, attraverso l'unità operativa complessa dipendenze patologiche mediante fondi vincolati, si è dotata del complesso e moderno macchinario, uno strumento che permette di avviare la nuova terapia elettrostimolante che integra l'utilizzo dei farmaci nella cura delle patologie nate dalle dipendenze, soprattutto quelle dovute all'uso di sostanze stupefacenti, ma anche la ludopatia che colpisce giovani e adulti impegnati nelle scommesse e nei giochi d'azzardo. E ancora il gaming disorder, cioè la dipendenza da videogiochi, che riguarda sempre più i bambini, fino alla cosiddetta porno-dipendenza in crescita per il facile accesso via internet anche tra gli adolescenti. Mediante questa nuova terapia è possibile applicare nel cervello un campo magnetico che si trasforma in un campo elettrico, capace di attivare alcune particolari cellule per produrre la modifica dell'assetto strutturale e neurobiologico, mettendo in moto dei meccanismi di rimodulazione celebrale. Aderendo a uno specifico corso tenuto dai docenti universitari Marco Diane e Angela Maria Sanna, l'ASPA ha provveduto a formare numerosi operatori sanitari di tre diversi servizi, tossicodipendenza, psichiatria e neurologia, con l'obiettivo di favorire la condivisione delle conoscenze tra specialisti differenti. Sarà inoltre attivato un successivo modulo terapeutico, destinato a pazienti con particolari patologie, come i cocainomani, gli ossessivo compulsivi, i depressi, i ludopatici, i malati di Alzheimer. Con la formazione degli operatori sanitari nell'utilizzo di questa nuova tecnica, seguendo un progetto dell'Unità Operativa Complessa Dipendenze Patologiche, l'ASPA ha avviato una serie di attività che si svolgeranno durante l'anno e che vedranno per il prossimo mese di aprile la realizzazione di un focus regionale sulla ludopatia. Il nostro CERT è il primo in Sicilia, la prima struttura in Sicilia che applicherà l'uso di questa attrezzatura nelle patologie e nelle dipendenze patologiche. Quindi è un passo importante. E' importante anche che questa attrezzatura, questo stimolatore transcranico, possa essere condiviso per altri tipi di patologie afferenti a disturbi neurologici. Il nostro CERT ha voluto fare la formazione anche insieme ad altri reparti dell'ASPA. Questo credo che sia un momento di condivisione importante e di collaborazione all'interno della stessa azienda per la migliore qualità delle cure. La stimolazione magnetica transcranica segue una logica ed un razionale di tipo anatomico attraverso una stimolazione elettrofisiologica. Il campo elettromagnetico ha il vantaggio di attraversare la teca cranica in modo indolore, ma al di là della teca cranica, cioè nel tessuto cerebrale, si trasforma in un campo elettrico e questo campo elettrico depolarizza o iperpolarizza i neuroni, modulando dunque l'attività delle strutture sottostanti che sono fondamentalmente la corteccia cerebrale, perché è la prima delle strutture che si incontrano attraverso la stimolazione di aree specifiche della corteccia. vedi la corteccia dorso-laterale prefrontale, noi abbiamo modo anche di stimolare dei specifici sistemi neurotrasmettitoriali che riteniamo essere importanti nella patogenesi della malattia. Le applicazioni pratiche riguardano sia la psichiatria che la neurologia, quindi medicina delle tossicodipendenze dove non abbiamo grandi strumenti terapeutici, farmacologici, ma anche penso al campo della neurologia come le malattie neurodegenerative, dove anche lì non ci sono delle grandi risorse farmacologiche e quindi diventa importante utilizzare una metodica che a fronte di effetti collaterali molto limitati rallenta la progressione del disturbo.